Volevo farvi vedere qual è il mio... Io ho un eroe progettuale. Ognuno ha i propri miti, io ho il mio mito progettuale. Non gli va troppo bene, però devo dire che la sua perseveranza è assolutamente fantastica. Aspetto che ci siano tutti, ve lo faccio vedere. Aspetta, non rivelavo. Se mi direte è quello, è lo stesso. Allora, fino adesso è tutto chiaro, ci sono cose che dobbiamo... Naturalmente io certe volte vado spedito come un fuso, voi mi dite no, guarda, aspetta, torniamoci sopra, sentitevi liberi da questo punto di vista di interrompere, fare le cose, le possiamo assolutamente ricapitolare, non succede nulla. Ok. Allora, dicevo, volete vedere il mio eroe progettuale? Il mio mito? Eh? Vado? Vado, eh? Non si vede, non capisco perché... Ecco. Aspirina Acme. Ce l'avete preso, vero? Ok, va bene. Allora, dunque, battute a parte, vediamo alcune definizioni, no? Di cosa significa gestire un progetto, così possiamo, diciamo, entrare nel dettaglio del ciclo di vita, cioè ogni progetto ha una sua, diciamo, estensione, no? Vitale, perché è una temporaneità, possiamo su questo capire esattamente quali sono i passaggi fondamentali. Però prima vediamo alcune definizioni. Per esempio, guardate, ci sono definizioni che vengono associate un po' a tutta la cultura di pensiero statunitense che addirittura ha creato un istituto sul project management che rilascia delle certificazioni. Sapete che i progettisti sono certificati. Questo, tra l'altro, è anche un argomento, è una battaglia che con qualche collega stiamo portando avanti da tempo, quello di certificare i progettisti culturali. non la certificazione del PM che si fa su una specie di manuale che si chiama PM Book, che è però, come dire, dentro ci sono tutti i crismi delle cose che stiamo, in qualche modo, raccontando, però in una maniera, come dire, che va bene per i progetti informatici, per i progetti tecnologici, non tiene conto, invece, di tutte quelle che sono un po' le caratteristiche, le peculiarità di chi lavora sul patrimonio culturale, sugli eventi, sull'attività convennistica, sulla ricerca, eccetera. Alcune definizioni, per esempio, il grande Archibald dice che è uno sforzo che dura in media tre anni, che significa che qualcuno metta in atto dei compiti rispettando obiettivi. La parola schedulazione significa calendarizzare i tempi da schedule e un budget definiti. vedete, un insieme di risorse temporaneamente riunite, perché se c'è una temporaneità significa che io tutte le cose di cui abbiamo parlato prima le uso per un arco di tempo circoscritto. Poi, guardate, De Carlo dice una cosa, secondo me, molto appropriata per il nostro mondo. Un campo energia, di energia localizzato, che è fatto da pensieri, emozioni e interazioni che si esprimono in forma fisica. Questa è una bellissima immagine di quello che succede in tante dinamiche culturali. Guardate anche questa, Leone e Prezza, c'è un settore che è quello sociale, dove si lavora moltissimo a progetti. Allora, Leone e Prezza hanno praticamente scritto un bellissimo libro di progettazione sociale e loro, dando delle definizioni, dicono che un progetto è un'attività di produzione di mondi possibili. Quindi, diciamo che queste cose ci aiutano anche a, come dire, provare a dare delle suggestioni che ci, come dire, introducono un po' alla filosofia da mettere quando progettiamo in campo culturale. Se vi dovessi dire, suggerire, delle letture da fare nei prossimi tempi, vi suggerirei sicuramente Calvino. Uno, Le città invisibili, è un testo fondamentale, soprattutto per lavorare sugli eventi. L'altro testo importante sono le lezioni americane, perché le lezioni americane contengono tutta una serie di, con queste sei, cioè cinque, barra sei, perché non finì il libro, come sapete, per esempio, il tema della molteplicità è un tema fondamentale per la progettazione culturale, perché significa lavorare sulla pluralità delle cose. Quindi, sicuramente, Calvino è da leggere, però volevo farvi vedere un pezzo scritto da Augusto Morello. Augusto Morello è stato, come Brunari, come Munari, un grande teorico del design. Sapete che nel design i temi della progettazione sono fortissimi, forse è il mondo più vicino alla progettazione culturale, anche se realizza oggetti, cose. Tra l'altro, oggi si sta affermando anche una corrente nel design che lavora sulla progettazione legata ai beni culturali. Comunque, Morello scrive una cosa, secondo me, potente. Io mi riconosco tanto. Lui dice progettare non è solo leggere il mondo con i caratteri della lingua consueta, bensì scegliere e accettare di scegliere nel mondo con ogni lingua possibile, guardare e non solo vedere, talora dissonare e non solo dissentire, trovare regole magari da distruggere e poi applicarle usandole e consumandole. Questo secondo me è quello che succede nei progetti culturali. Lui naturalmente non pensava a questo ma sembra veramente in qualche maniera ispirato da tante cose che abbiamo poi visto appunto nelle arti e nella cultura. Questa è la legge di Murphy sui progetti. Sapete cos'è la legge di Murphy? La legge di Murphy è quella cosa che dice che se una cosa può andar male sicuramente andrà. È una cosa scherzosa. Guardate vi faccio vedere ecco la prima legge delle modifiche qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sarà trasmessa al project manager dopo e soltanto dopo che tutte le attività saranno state completate meglio conosciuta col nome adesso me lo dici? naturalmente Murphy era un ottimista allora dunque andiamo sul ciclo di vita no prima di andare sul ciclo di vita vi metto solo proprio velocissimamente in come dire in vi espongo quelle che sono alcune caratteristiche che forse è importante che prima tutti i progetti culturali sono unici l'abbiamo detto prima l'elemento dell'unicità è una cosa che ci rappresenta ecco perché reinventiamo tutte le volte il progetto anche se lo costruiamo all'interno di modelli replicabili secondo progetto che è finalizzato e focalizzato più obiettivi più traguardi c'è un'interconnessione però è focalizzato ciclo di vita che adesso spiegheremo cioè il progetto non è un tutt'uno ma si esplica in alcuni momenti noi al loro interno possiamo addirittura come dire scendere di livello in questi momenti a seconda delle cose che facciamo progressività il progetto è frutto di approssimazioni continue quindi ogni passaggio in avanti deriva delle cose che abbiamo fatto prima si lavora in squadra il rischio l'abbiamo già detto stamattina è una componente fondamentale i progetti culturali mentre gli altri mondi gli altri settori il progetto può essere solo appannaggio di chi l'ha commissionato e chi lo fa i progetti culturali sono esposti al vaglio pubblico cioè comunque tutti entrano in contatto prendono coscienza di quello che si è fatto quindi c'è una valutazione intrinseca del lavoro il risultato che si è fatto realizziamo uno più output multidisciplinarietà molteplicità all'interno dei progetti i nostri progetti sono sicuramente quelli più ricchi di apporti diversificati le risorse abbiamo detto e invece parliamo di qualità allora la qualità è un oggetto diciamo è una circostanza è una prerogativa veramente come dire fonte di tante discussioni nella progettazione culturale perché? perché se voi parlate con un direttore artistico un curatore un responsabile scientifico eccetera naturalmente il concetto di qualità diventa una cosa soggettiva tutti vi diranno che le loro cose che hanno fatto sono cose di qualità dopodiché però la qualità noi sappiamo che viene anche valutata da chi accede da chi fruisce del progetto culturale c'è poi tutta un'altra questione la possiamo misurare la possiamo progettare la qualità cioè questo è un tema spinoso perché noi alcune cose le possiamo sicuramente indirizzare in modo che siano qualitativamente accettabili dobbiamo avere degli standard dei criteri per capire cos'è l'accettabile dopodiché però alcuni contenuti come dire la come dire tribuzione della qualità diventa ugualmente un terreno scivoloso sicuramente noi dobbiamo capire se ci sono dei prodotti del progetto che possono essere ispirati a caratteristiche di qualità e questa è una prima come dire raccomandazione ma la cosa più importante è concepire la qualità complessiva del progetto come un'addizione di più qualità per esempio una qualità dei contenuti può essere data da tanti fattori noi sempre come dire l'accortezza di sapere che non è che il prestigio o la visibilità di un componente di un elemento che mettiamo nel progetto è sicura garanzia di qualità tendenzialmente ipoteticamente è così ma non è detto che lo sia in maniera assolutamente come dire super sicura quindi la qualità la bontà l'accreditamento l'interesse l'originalità delle idee dei contenuti possono come dire comporre una qualità diversamente o differentemente percepibile da chi lo vive ma ci sono altri due aspetti a cui essere attenti la qualità di come si mette in atto il progetto cioè di come lo si progetta e di come lo si realizza lo si implementa quindi la qualità organizzativa la qualità dei processi e quindi ragazzi voi siete la qualità l'altro diciamo elemento di questa addizione è la qualità della comunicazione cioè come lo si racconta come lo si narra come lo si descrive come si riesce in qualche maniera a essere autentici in quello che si racconta a essere veri a non creare distonie a non creare per esempio degli abissi dei baratri molto importanti tra quello che il progetto è e quello che viene in qualche modo raccontato per esempio gli eccessi le enfasi guardate se voi vedete tutto quello che è la strumentazione tradizionale degli eventi culturali è tutto improntato all'eccesso è sempre tutto straordinario tutto bellissimo tutto fichissimo eccetera attività che sono attività di routine vengono descritte come eventi mentre invece l'evento è una cosa precisa è qualcosa che si distacca dalla normalità dalla routine allora vi faccio capire che cosa voglio dire con un esempio come state immaginazione stamattina va bene allora supponiamo che siete tutti i componenti di un'agenzia che organizza eventi una impresa vi dà un incarico questa impresa ha fatto il restauro di un grandissimo parco storico e vuole organizzare un avvenimento per mostrare a tutti il restauro che ha fatto quindi un evento da realizzare dentro a questo parco facciamo mettiamogli un'impronta fatta scientifica proprio fantascienza pura avete budget illimitato più fantascientifico di così allora cosa vi chiede il committente ecco committente è una cosa importante nei progetti committente è qualcuno che ti incarichi di fare una cosa ti incarica allora lui vi chiede di fare come preferenza un evento musicale sinfonico siccome avete budget illimitato e siccome loro puntano ad avere in qualche maniera una grande visibilità vi chiedono di portare possibilmente dei grandissimi interpreti quindi voi vi attivate e siccome stiamo fantasticando il berliner vi dice che verrà a suonare ovviamente lo pagate ma insomma diciamo che praticamente avete portato a casa il berliner allora col berlinere assunto l'avete riempita la cassera dalla qualità dei contenuti beh sulla carta sì certo possono sempre stonare possono essere sempre assolutamente come dire esecutivamente più bassi ma tendenzialmente sono dei signori professionisti insomma questa roba dovrebbe essere tranquilla andiamo avanti a un certo punto vi serve un grande direttore allora facciamo un piccolo gesto d'amore supponiamo che sia ancora vivo e che avete scritturato Abbato allora Abbato che dirige il berliner l'abbiamo aumentata la qualità dei contenuti della proposta direi proprio di sì ma sapete che succede che con Abbato che dirige il berliner voi avete incrementato anche la qualità della comunicazione perché Abbato che ritorna al berliner era un fatto mediatico terzo aspetto Abbato però era uno molto attento a far lavorare i giovani per cui vi dirà che nella scaletta della serata deve essere inserito anche un giovane compositore che succede con un giovane compositore che voi non è che abbassate la qualità ma prendete un rischio perché può darsi che questo sia fantastico in una scaletta in un programma magari anche di pezzi un po' più noti ma può darsi anche che magari non sia proprio massimo la punta potrebbe essere molto sperimentale e quindi per il tipo di pubblico non giusto siccome siete quarto aspetto siccome siete molto attenti alla qualità dell'esecuzione e poi il Berline ve lo metterà in contratto voi vi premonite della conchiglia acustica la conchiglia acustica che cos'è? è una conca una conchiglia che si mette dietro l'orchestra per non disperdere il suono rimandare il suono e voi prendete quella di Müller a Monaco cioè le migliori che ci sono quindi avete migliorato la qualità dei contenuti ma messo anche qualcosa sulla qualità organizzativa allora sulla carta avete progettato una cosa che ha tutte le condizioni le premesse per assicurarvi un risultato super positivo facciamo il concerto e supponiamo che l'esecuzione sia assolutamente un'esecuzione fantastica quindi memorabile che anche il nuovo compositore abbia bucato i più scettici tra gli spettatori eppure facciamo finta che si siano verificate tutte le cose che adesso vi vado a elencare prima circostanza quindi immaginiamo che per esempio intervistiamo il pubblico appena uscito dalla come dire dalla serata primo commento no concerto bellissimo fantastico mi è piaciuto tantissimo peccato che io non so se ritroverò la macchina non c'era parcheggio non sono riuscito a attrezzarmi non c'era una segnaletica l'ho lasciata così dove capita speriamo che non me l'hanno portata via seconda osservazione concerto bello veramente bello potente però diamine perché fare entrare il pubblico a concerto iniziato cioè questo fastidioso passarti sui piedi dei ritardatari ecc terzo commento no no al concerto mi è piaciuto tanto ma che fastidio il personale di contatto non sapeva quanto durasse il concerto e hanno parlottato tutto il tempo quarto commento beh mi sono comprato il programma di sala perché ho visto che c'erano dei pezzi critici ecc certo trovare quattro foglietti con gli erratacorridge insomma rispetto a quello che ho speso mi ha dato un po' fastidio sesto commento quinto commento ho trovato un'area insomma bello l'allestimento ho trovato un'area food dove poter prendere e mangiare delle cose veramente molto chic però ma che bisogno c'era che continuasse a servire le cose durante il concerto andiamo avanti sesto commento il concerto a me mi è proprio piaciuto però che diamine intervallo corto i bagni non erano segnalati e quando sono arrivato io non erano abbastanza ho fatto la coda e ho dovuto rientrare al concerto riavviato settimo commento poi basta il concerto è bellissimo ma certo quel motorino smarmittato che è passato ai confini del parco proprio nel momento in cui c'era quel solo del primo violino è stato proprio fastidioso allora domanda che vi faccio qualità organizzativa potevate gestire in una serata così un sistema di parcheggio o di navette bastava organizzarlo no? bastava gestire l'area seconda cosa potevate introdurre una regola che a concerto iniziato un concerto così delicato se arrivi in ritardo non entri ti lascio dei posti in fondo e all'intervallo raggiungi il tuo posto sì terza regola potevate prendere i ragazzi i ragazzi del personale di contatto fargli un brief dargli tutte le informazioni e coordinare il loro comportamento e potevate mettere nel contratto con il bar nell'appalto che avete fatto una regola per cui a concerto iniziato non si muove una stoviglia e potevate fare un lavoro di controllo dell'editing del catalogo ed evitare visto che veniva commercializzato questa cosa molto fastidiosa che dentro ci posso trovare dei rifusi e non mi ci metti cinque foglietti e organizzare un numero di bagni adeguato con una segnalizzazione o un intervallo più lungo se non ci avevate spazio il motorino smarmittato lo so che qualcuno di voi sta pensando a un cecchino ma non si può risolvere cioè quello praticamente te lo tieni fa parte dell'incognito e del tipo di location che stai usando allora queste sono noi quando progettiamo non progettiamo tutte le cose fantastiche che ci vengono in mente ma anche progettiamo come si farà e deve essere fatto bene noi progettiamo le idee ma progettiamo la loro realizzazione ecco perché adesso vedremo che c'è una fase per me determinante che si chiama attivazione dove noi valutiamo la fattibilità cominciando a immaginare esattamente come deve accadere ecco diciamo entrando nel merito di tutti i dettagli per esempio indossando i mocassini di chi verrà a beneficiare del nostro progetto cioè voi se siete coinvolti e monetizzate non era questo il caso un evento o partecipate quindi decidete che spendete del vostro tempo dei vostri soldi ma vorreste che vi accadessero certe cose o non vi ponete in un'ottica anche di giudizio di valutazione dell'esperienza che state facendo quindi prima cosa è indossare questi mocassini e mettersi nei panni di chi deve in qualche modo beneficiare utilizzare il vostro il vostro progetto detto questo noi abbiamo quattro aspetti di complessità a cui dobbiamo stare attenti quella che abbiamo spiegato prima abbiamo una complessità dei contenuti che la gestiamo fino a un certo punto una complessità degli obiettivi che invece dobbiamo essere particolarmente attenti a riuscire a identificare in maniera chiara nitida una complessità diciamo del contesto con cui ci rapportiamo come abbiamo già detto e poi dobbiamo essere assolutamente prudenti oculati ma molto puntuali nella gestione e quindi nel progettare nella gestione allora andiamo un attimino ecco questo è il ciclo di vita di un progetto culturale quello che vedete sotto sono come dire le fasi consuede di altri progetti cioè i progetti generalmente stanno su quattro fasi chiave c'è una fase che viene chiamata di definizione quindi poi una fase naturalmente che pianifica il lavoro che deve essere fatto c'è la realizzazione o implementazione del progetto e poi c'è la chiusura quindi se io progetto una nuova molecola di un farmaco uso questa struttura logica se progetto un nuovo dispositivo mi affido a questo tipo di impostazione quindi nella definizione definisco l'oggetto definisco le funzioni definisco le caratteristiche requisiti nella pianificazione pianifico tutte le scadenze nell'implementazione metto in alto il progetto nella chiusura per esempio valuto i risultati ma realizzo che ne so di un dispositivo un manuale le istruzioni di un farmaco il famoso bugiardino come si chiama cioè il fogliettino invece nella progettazione culturale noi abbiamo ma anche in quella sociale non è molto distante noi abbiamo un diverso livello chiamiamolo di di fasi che definiamo anche con appellativi diversi per esempio la prima fase è più corretto chiamarla ideazione perché è vero che dentro abbiamo anche la definizione di alcuni aspetti comuni ad altre forme di progettazione per esempio gli obiettivi ma sostanzialmente il grosso del lavoro in quella fase è un lavoro concettuale noi stabiliamo il concept del progetto poi vediamo bene che cosa c'è nella fase oggi è quello su cui lavoriamo di più nella fase successiva quindi diciamo che l'ideazione è il momento virtuale del progetto voi avete qui probabilmente il massimo top del momento diciamo di libertà potete concedervi tutto quello che vi serve per sviluppare in ogni direzione le vostre idee ecco perché la fase che segue che è quella della attivazione è invece la fase della concretezza del pragmatismo cioè io qui vado a verificare la fattibilità di quello che ho ideato quindi la realizzabilità la percorribilità la coerenza naturalmente questo può significare una riscrittura una ridefinizione dell'assunto ideativo è ovvio ragazzi che dipende quanto impatta questa ridefinizione cioè se io come dire sulla base delle mie verifiche mi rendo conto che alcune cose non le posso fare posso costruire delle revisioni ma se io devo cambiare una parte considerevole del progetto io sto scrivendo un altro progetto abbiamo comune agli altri mondi progettuali una fase di pianificazione che è la programmazione del lavoro da fare naturalmente più noi abbiamo arricchito la fase precedente che è quella di verifica più la pianificazione sarà un tipo di procedimento molto più snello molto più rapido poi abbiamo una fase che abbiamo splittato in due sottomomenti cioè l'abbiamo chiamata fase di esecuzione che in realtà è divisa tra una fase produttiva vera e propria organizzativa vera e propria che chiameremmo attuazione e una subfase che abbiamo chiamato completamento perché voi potreste dire Lucio ma che bisogno c'hai di separarle in due sottomomenti cioè tutto sommato il progetto lo fai e lo chiudi lo completi non è che lo lasci a metà allora questa necessità deriva dal tipo di sostenibilità finanziaria che hanno i progetti culturali allora voi sapete che una fonte importante anche se oggi sempre più faticosa di approvvigionamento delle risorse economiche è legato al settore pubblico quindi a finanziamenti pubblici il momento è quello che è e quindi è una fonte decisamente in difficoltà in affanno però è una fonte che c'è qual è il problema di questa fonte il problema di questa fonte è che è una fonte che ha delle procedure e delle modalità per metterti a disposizione questi denari che non vanno di pari passo con i tempi del progetto mi spiego alcune diciamo delle voci di finanziamento pubblico non vengono date prima di fare il progetto e non vengono date durante l'esecuzione del progetto ma vengono date dopo che il progetto è stato concluso potendo dimostrare attraverso una procedura che si chiama rendicontazione di avere ottemperato a tutte le condizioni per cui è stato concesso quel finanziamento allora cosa succede succede che alcuni progetti finiscono quindi voi fate tutte le lavorazioni chiudete tutto restituite i materiali chiudete i contratti eccetera ma c'è ancora da lavorare per chiudere le rendicontazioni e ottenere la liquidazione dei contributi che hanno permesso quel progetto mi spiego allora è chiaro questo perché mi rendo conto che ve lo spiego con un esempio no? Laura? Paola allora supponiamo che Paola abbia un'associazione sua culturale che fa tutta una serie di piccole iniziative di valorizzazioni di siti storici eccetera a un certo punto vuole ha in mente di recuperare un sito cosiddetto minore l'Italia è ricca di beni culturali diciamo che non sono molto gettonati ma che non per questo sono meno interessanti allora l'associazione fa tutto un progetto legato a una certa area e quindi prevede delle visite guidate delle visite animate prevede tutta una serie di cose il comune dove ha localizzazione questo sito nel frattempo ha emesso un bando legato appunto a questi interventi così appunto di valorizzazione in generale Laura con l'associazione partecipa al bando vince il bando e quindi ottiene un pezzo di finanziamento dico un pezzo perché il bando non è che finanzia il 100% dei costi dell'operazione quindi Laura intanto si deve preoccupare di trovare una certa percentuale può darsi che questo bando finanzi il 60% il 70% del costo che lei ha dichiarato essere il budget per fare il progetto quindi lei intanto si deve attrezzare e trovare delle altre fonti e magari troverà uno sponsor e magari farà una bigliettazione e magari farà tante altre cose ma insomma riesce a mettere in qualche modo in piedi una struttura di ricavo che copre i costi del progetto che succede che il comune che gli ha assegnato questa cosa gli manderà farà una delibera e gli manderà eventualmente una lettera di assegnazione punto lei non vede per adesso non un centesimo ha solo la certezza che comunque il contributo l'ha ottenuto in termini di assegnazione naturalmente il comune le può dire che il contributo sarà confermato e liquidato quando lei avrà prodotto tutta la documentazione che attesta che il progetto è stato fatto come lei lo ha dichiarato diciamo partecipando al bando quindi intanto si pongono due problemi il primo problema ragazzi è un problema di liquidità e cioè se il 70% del costo è dato da questo contributo che però non è materialmente disponibile Laura per fare il suo progetto deve trovare qualche cosa temporaneamente che le permetta le consenta di sopportare le uscite che si determinano con i costi operativi come farà Laura? farà che rinvierà dei pagamenti che si farà prestare dei soldi cioè troverà delle soluzioni finanziarie dopodiché Laura diciamo che insomma in qualche modo con un'associazione che ha un po' di esperienza si barcamena e arriva alla fine del progetto a questo punto lei comunque deve rendicontare al comune tutta l'attività che ha fatto per esempio sarà molto importante che lei abbia un monitoraggio del budget perché questi contributi come funzionano? che se lei come dire spende di più il comune sempre quello gli darà non è che aumenterà la percentuale rispetto a quello che ha speso ma se lei è brava e virtuosa e spende di meno il comune rispetto alla maggior parte delle regolamentazioni che disciplinano queste cose diminuirà il contributo in relazione alla percentuale che era prevista nel bando quindi prima cosa le devi essere molto attenta seconda cosa è che lei manda a casa tutti smonta tutto eccetera però lei e qualcun altro dei suoi rimane lì a scrivere una relazione finale un bilancio consuntivo tutta documentazione che poi fa avere il comune il comune la valuta dice ok è tutto quello che ci aspettavamo a quel punto sul conto corrente di Laura arriva prima o poi il contributo cash allora voi capite che c'è in termini di fasi una separazione che naturalmente non è che vale per tutti i progetti se io ho un progetto pagato da uno sponsor e lo sponsor mi dice che mi paga prima durante e dopo quindi un pezzo alla firma del contratto un pezzo nel corso del progetto un pezzo finito il progetto non ce l'ho uno stacco così importante come ciclo di vita mentre invece molto spesso se il finanziamento è pubblico posso andare incontro a queste separazioni temporali tenete presente che sui contributi statali l'arco di tempo può essere anche 6, 8, 12 mesi cioè se ho un contributo sul FUS o un contributo su un finanziamento eccetera se sono un soggetto che lavoro da tanti anni posso avere delle anticipazioni ma se sono un soggetto una prima istanza eccetera l'arco di tempo può essere un arco di tempo anche piuttosto protratto l'ultima fase è quella della valutazione lì dovremmo aggiungere un suffisso valutazione ex post cioè quella che si fa dopo perché perché esiste un'altra forma di valutazione anzi altre due forme quella che viene chiamata valutazione ex ante che però nel nostro caso corrisponde all'attivazione perché è di fatto in qualche modo una diciamo verifica un modo per ragionare intorno a quello che deve essere fatto poi esiste un'altra cosa importante che si chiama valutazione in itinere che è una valutazione che si fa diciamo durante l'andamento del progetto però non dobbiamo confondere la valutazione che è la formulazione di un giudizio con attività di monitoraggio il monitoraggio è che io vado a controllare se sto rispettando alcuni aspetti che mi sono dato nella pianificazione per esempio sono in tempo con le scadenze che mi sono dato sono dentro il budget che ho stabilito i requisiti o gli attributi di qualità che mi sono dato li sto rispettando questo è il monitoraggio se invece devo valutare se alcune cose si stanno ottenendo cioè io mi sono dato degli obiettivi nel corso del cammino progettuale allora qui mi entra in gioco un processo valutativo naturalmente poi ci sono gli strumenti e gli indicatori per fare la valutazione per esempio la valutazione non è soltanto che io mi assolvo e dico mazza che figo che so ho fatto questo cioè dovrei avere una certa terzietà della valutazione cioè qualcuno che incarico oppure la rilevazione che io faccio su tutta una serie di soggetti per capire se effettivamente si sono prodotti dei fenomeni o dei risultati è chiaro fino adesso eh no tutti insieme allora dunque altro concetto importante e poi vediamo l'ideazione ricordatevi che il vostro principale compito all'interno diciamo della progettazione è molto semplice voi gestite l'integrazione tra processi cioè il vostro siete qualcosa di più di un vigile urbano siete un piccolo chimico siete un apprendista stregone cioè dovete mettere insieme tutti questi elementi e trovare il dosaggio da questo punto di vista quali sono gli elementi che andate a integrare molte cose le abbiamo già accennate per esempio tutto il tema del i contenuti le persone i soldi gestione dei tempi eccetera dovete gestire processi di comunicazione abbiamo detto che i progetti culturali sono esposti al vaglio pubblico più degli altri ma anche la comunicazione interna a tutte le persone che sono coinvolte nel progetto anche la presentazione del progetto a chi vi deve in qualche modo sostenere il rapporto con gli stakeholder quindi la comunicazione in senso generale poi dovete gestire anche tutte le forniture che vuol dire vuol dire la parte legata in qualche modo per esempio ad aspetti contrattuali e aspetti di natura anche amministrativa per esempio dovete gestire nei progetti culturali quelle che noi chiamiamo le burocrasi cosa sono le burocrasi? sono autorizzazioni concessioni permessi aspetti fiscali quindi dovete trovare sempre come dire la quadratura tra le cose che devono essere fatte come devono essere fatte il rispetto delle norme i meccanismi che vi permettono in qualche maniera di rendere esplicito chiaro nitido quello che fate questa è la integrazione l'integrazione non è che una prerogativa di una singola fase ce l'avete durante tutta la vita del progetto in ogni momento vi dovete porre delle domande che riguardano questi aspetti vediamo se c'è un'agenda della prima fase la fase ideativa cominciamo a entrare un pochino più nel nel come si fa io poi mi sono ripromesso che qualche cosa ve la faccio fare magari troviamo un modo veloce ma anche se insomma sarà più Vincenzo che vi farà eventualmente cimentare però io qualche cosa per fissare qualche concetto insomma la facciamo proprio molto rapida o collettiva oppure lo facciamo insomma gruppettini da due allora guardate nella fase ideativa l'agenda c'ha tre pilastri la prima cosa importante sono quelli che noi chiamiamo gli assunti del progetto che sono dati da tutte quelle cose che trovate scritte là che adesso vi commento velocemente la seconda secondo pilastro è il profilo l'indirizzo strategico tenete presente ragazzi che mentre negli assunti come dire c'è un po' una presa d'atto di alcune cose diciamo che lavorate ascoltando eccetera nel secondo e nel terzo pilastro le scelte le fate voi io vorrei ricordarvi un concetto importantissimo che qualunque progetto voi farete è uno dei progetti possibili sull'argomento che state affrontando sui contenuti che state affrontando non è il progetto è un progetto quindi attenzione alle scelte che fate nell'ordinamento giuridico anglosassone chi di voi ha fatto legge giurisprudenza me lo può insegnare a me ma comunque sapete che noi diciamo in Italia così come in Francia in Germania abbiamo un ordinamento giuridico basato sui codici mentre invece nei paesi anglosassoni tutto è fortemente come dire impostato sul diritto comune sulla giurisprudenza allora questo si chiama common law questo meccanismo allora questo meccanismo dice che fino a che si negozia c'è freedom of contract cioè libertà di negoziare di contrattare ma una volta fatto il contratto viene chiamata la santità del contratto allora noi nei progetti culturali abbiamo più o meno una situazione analoga cioè noi abbiamo in una fase che è tutta quella ideativa un grande spazio di manovra dove però dobbiamo fare manovre tutte le titubazze le incertezze le cose sono accettabili anche preferibili io sinceramente per atteggiamento proprio mentale diffido molto da chi ostenta sicurezza allora chi ostenta sicurezza mi può dare tranquillità ma se l'ostenta allora mi viene qualche dubbio e come per la perfezione le cose perfette francamente mi annoiano preferisco l'imperfezione personalmente è come dire un atteggiamento personale allora da un certo punto di vista però delle scelte vanno prese preferisco metodologicamente chi mette sul tavolo tutte le opzioni e quindi avere sul tavolo tante cose tante chance ma poi ne devo pescare una come ci arrivo se faccio un ragionamento di impulso se faccio un ragionamento invece molto metodico e quindi escludo i pro e i contro mi sta bene tutto ma noi dobbiamo avere delle manovre che devono essere adottate tanto abbiamo una salvaguardia che in sede di attivazione confrontandoci con la fattibilità possiamo eventualmente rimettere in discussione delle cose ok allora nell'indirizzo strategico io decido alcune cose che sono veramente il perimetro del progetto quindi mentre nella prima diciamo nel primo pilastro come dire insomma io posso alla fine anche ondeggiare prendo atto di alcune cose sono molto spugna assorbo molte cose nel secondo comincio a stabilire qualche punto fermo il terzo pilastro è invece molto più elaborativo molto più creativo allora prima come dire come se avessi immagazzinato degli input mi sono dato più o meno delle regole che magari derivano anche da circostanze di analisi che ho fatto a questo punto forte di queste due cose posso concettualizzare e quindi utilizzare come dire vari approcci sono tre gli approcci che io perlomeno ritengo percorribili nella progettazione culturale naturalmente però io devo cominciare anche a razionalizzare l'idea e quindi per esempio devo definire che cosa offre il mio progetto qual è la sua articolazione contenutistica ecco su questo vorrei farvi giocare oggi cioè come si fa un palinzesto di un progetto e poi comincio anche a capire esattamente come raccontare questa idea se devo cominciare a cercarmi le condizioni cercare i soldi devo trovare delle alleanze dei partenariati devo lavorare insieme a qualcuno eccetera quindi come dire questo più o meno è lo schema in cui vado incontro chi mi deve fermare? chiudo il concetto e poi vi mando anche perché ci trasferiamo ecco ci trasferiamo mi diceva Tiziana andiamo in una saletta più contenuta allora guardate non apro nuove cose in modo che oggi pomeriggio entriamo subito nel merito di questi aspetti e insomma anche su questo magari discutiamo vi ricordo che su questo gioca molto il vostro stile personale per esempio ci sono tre approcci per scrivere il concept di un progetto c'è un approccio che è assolutamente razionale cioè io parto dall'analisi dei bisogni da un problema e affronto il problema e il mio concept è una risposta qualunque essa sia c'è un approccio più di design non devo necessariamente trovare una risposta proprio che sia un meccanismo super dominante ma mi lascio prendere dalle cose posso costruire in qualche maniera tutta una serie di elementi che mi sembra che funzionino cioè sono da questo punto di vista estremamente laterale nelle cose e poi c'è un terzo approccio che è una narrazione è una drammaturgia cioè quello che io faccio è un racconto allora ci può essere una scelta dell'approccio in relazione a quello che voglio affrontare ma ci può essere una scelta dell'approccio in relazione a come vi sentite voi a qual è il vostro come dire imprinting progettuale a che cosa vi caratterizza meglio ci sarà qualcuno che sente veramente di essere uno storyteller cioè qualcuno che racconta e quindi il suo progetto sarà sempre una narrazione ma ci sarà anche chi invece io ne conosco tanti di colleghi che ha una impronta più sociologica e quindi il progetto deve necessariamente dare una risposta non ha bisogno di cincischiare troppo questo poi richiama tutta una serie di cose interessanti che noi troviamo tantissimo anche in altre forme di progettazione per esempio ragazzi nell'architettura leggersi qualche buon libro di progettazione architettonica è molto interessante per esempio gli architetti soprattutto i teorici di architettura dicono che per far scattare un progetto è importante che ci sia un elemento che loro chiamano generatore primario cioè una specie di cosa che ti scatta dentro l'idea intorno a cui ruoti ecco allora queste cose sono sempre e comunque in qualche maniera non degli approcci che sono come posso usare una cazzuola per fare un muro piuttosto che come uso il microscopio all'interno della biologia o della medicina ma sono semplicemente degli elementi che poi ciascuno sposa in relazione a com'è a come si è formato a come la pensa a come vive ai valori che ha eccetera l'unica cosa per chiudere poi chiudiamo è quello di non essere troppo ideologici il rischio vero che io trovo ogni tanto guardando dei progetti è che si è veramente troppo ideologici ve lo dice uno che ha avuto una moglie femminista è un disastro quando si è troppo ideologici è un disastro no perché poi alla fine alla fine no questo Michele questo chiudilo va questo praticamente ti porta a confrontarti con una cosa fondamentale che sono i paradossi i progetti culturali sono come avere una moglie femminista un paradosso qual è un paradosso di una moglie femminista quello è quando tu entri in casa hai chiuso la porta ti chiedi tutte le volte sei in casa e un giorno gli ha risposto no sono un ologramma perché è evidente che il paradosso è come dire questo elemento che puntualmente ti propone tutta una serie di situazioni assolutamente che non sembrano essere quelle tipiche della realtà ordinaria allora battute a parte sto scherzando dirvi che rendere ideologici i progetti è un freno ed è un forte condizionamento al contenuto del progetto stesso uno può dire delle cose forti potenti ma scegliendo una via piana cioè trovando un modo per argomentare e difendere anche in questo modo il progetto stesso grazie